Nei giorni 25, 26 e 27 ottobre, la Polizia di Stato di Sondrio ha portato a termine un'azione di verifiche straordinarie sull'intero territorio provinciale, sotto la direzione del questore Sabato Riccio. Hanno partecipato alla missione la divisione anticrimine, l'ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura e il reparto prevenzione crimine di Milano. Le verifiche si sono focalizzate su Sondrio, Morbegno, Chiavenna e Villa di Tirano, con particolare attenzione alle zone frequentate dai più giovani. Gli agenti hanno osservato le strade più affollate e i locali pubblici, in particolare quelli già segnalati per problematiche di sicurezza. Durante l'attività sono stati ispezionati 29 esercizi tra bar e pub, di cui 10 dotati di videolotteri e giochi d'azzardo. Sono state applicate 5 sanzioni amministrative a 3 esercizi di Chiavenna e Morbegno. Sono stati controllati oltre 40 veicoli e più di 250 individui, di cui 80 con precedenti penali, a dimostrazione dell'impegno della Polizia di Stato per garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle leggi vigenti.